No, non credo. C'è stato un accordo il 10 di luglio del 2014, come tutti sanno. Poi a marzo di quest'anno, e ho lasciato la lettera agli atti, la Conferenza delle Regioni ha sollevato al Governo quattro criticità, cioè inadempienze, di quell'accordo del luglio del 2000, che rendono di fatto ingestibile. Però quello è l'accordo che va attuato. Finora il Governo non l'ha attuato. Quindi più che segnalare queste inadempienze del Governo, è questa lettera del 25 marzo, cioè di due mesi fa. Quali è la definizione degli hub regionali, la definizione del sistema dello Sprarra e altre criticità. E agli atti comunque. Se vi interessa ve la faccio. Ce l'abbiamo lì? No?